No però diciamolo un attimo scusa Ma l'abbiamo già detto E a Padua com'è andata che non abbiamo parlato di Padua? Ha perso un bidoncio Allora ragazzi io voglio parlare di una cosa che probabilmente già sapete che è successa nel fine settimana durante il Gay Pride a Latina Cosa è accaduto durante il Gay Pride a Latina? Ne ho scritto anche sul quotidiano libero Uh divertente quel quotidiano bellissimo Allora, un signore pare un imprenditore ha messo un cartello, un manifesto, uno striscione che ho scritto viva la fica mentre spilava il Gay Pride Qualcuno dei signori del Gay Pride si è incazzato ha chiamato la polizia e i carabinieri i quali non sono andati a cercare dei pericolosi terroristi o micidi no, sono andati a casa di questi imprenditori e hanno fatto rimuovere, non so con quali conseguenze, denunce eccetera non credo, speriamo di no hanno fatto rimuovere lo striscione ripeto, viva la fica c'era scritto viva la fica può essere interpretato come una cosa volgare secondo le... come dire? secondo parezzo ma no, non è una roba da maggioranza silenziosa ma ho capito, ma è appeso un cartello ma come che bisogna? ma chi se ne frega? è uno sberleffo è uno sberleffo, una presa per il culo ma sì, ma è volgare sfila il Gay Pride io scrivo viva la fica è inelegante ma sarei inelegante ma chi se ne frega ma perché deve arrivare la polizia a casa mia perché ti devi arrabbiare ma perché è una... al Gay Pride di Latina è una vocina che abbiamo registrato no, non l'abbiamo registrato purtroppo ha detto ma che è quello striscione così volgare, offensivo così ce l'ho detto al telefono quando abbiamo chiesto delle informazioni cos'è quello striscione così offensivo, volgare? adesso non faccio la vocina di pigliare per il culo come dire, i gay effeminati però ci hanno risposto in questo modo cioè per la sostanza è questa c'è uno striscione offensivo cosa c'è di offensivo nello scrivere viva la fica? no, ma è inelegante tu dici la stessa cosa che durante un convegno delle associazioni ebraiche viene scritto sopra credi so, viva i campi di concentramento non lo so vuoi fare lo stesso esempio? no, no questo esempio no, ma per dire un paradosso no, un paradosso sicuramente l'esempio non ci sta poi tra l'altro scusa, una parte di quel corteo cioè le lesbiche approveranno, no? cioè viva la fica le lesbiche del corteo mi sembra una provocazione soprattutto volgare sciocca ma quale volgare? inutile ma scusa ma tu sai quello che accade durante il gay pride? per me va benissimo gente impiumata gente è stato masso gente che si visce per terra ma chi è stato masso? ma hai visto le fotografie? ci sono anche ci sono ma va benissimo gente col culo di fuori non col pisello col culo sì però con mezzo culo di fuori ma per me va benissimo possono fare quello che vogliono al gay pride e figuriamoci sono un grande sostenitore anche quelli che dicono come alcuni gay militanti conosciuti VIP che dicono no è una cosa superata ma è sbagliato anche dire questo secondo me una manifestazione come tante altre io la considero una manifestazione uguale alle altre che ha la stessa legittimità della manifestazione dei colletti bianchi della manifestazione del sindacale delle manifestazioni si ma capisci che è una stupida provocazione quella di mettere viva quella cosa là è bellissimo ma no ma questo va dato una medaglia cioè va dato alla creatività cioè viva la fica stupendo ma tu l'hai ricordato prima in modo intelligente cioè è un controsenso perché ci sono molte donne lesbiche che ad esempio possono vabbè ma è chiaro uno pensa all'omosessualità spesso come un'omosessualità maschile è un comune stupido invece la questione lesbica noi l'abbiamo trattata poco forse nei prossimi mesi fino alla chiusura estiva tratterò molto la questione lesbica ah ecco tutte le varie diramazioni le varie declinazioni cosa c'è da dire scusa è interessante intanto andiamo a Claudio da Messina vai Claudio grazie a tutti Grazie a tutti.